La storia del nome deriva praticamente da un video che il significato è acicattivi suonato da circa un anno e il loro genere musicale è il punk ci devono apprezzare per quale motivo che fanno schifo la cosa è detta, ci stanno auto giudicando però alcuni dei brani perché vedo che siamo tanti da quella che è la loro scaletta alcuni dei casi di battaglia sono mi fotti il cervello, barba e capelli, sono stanco e poi ci saranno alcuni nuovi e poi ci saranno un po' 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.